... Streaming Sport, calciomercato dilettanti, la conduzione tra poco lo sentiremo di Flavio Cipriani, un peccato perché è l'ultima puntata, eccolo qui Flavio Cipriani, buongiorno Flavio. Buongiorno a voi. È l'ultima puntata di questo calciomercato, ma non perché noi vogliamo chiudere a tutti i costi, ma anche perché ci siamo accorti anche nelle settimane passate che più o meno i giochi sono stati fatti. È stata una stagione un po' particolare e quindi anche il calciomercato lo è risultato. Adesso c'è questa questione delle amichevoli perché si sta per preparare per campionato e per Coppa Italia chi la farà naturalmente e servirebbero delle amichevoli. Però, 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 ci sono dei però, è vero Flavio? Sì, in questo periodo si stanno allestendo più amichevoli, tante vanno in porto, tante all'ultimo vengono annullate o per esigenze tecniche o per non andare a incorrere poi in infortuni. Le società cercano di preservare i propri tesserati anche in funzione di una situazione di preparazione molto pesante. Inizia a essere un po' pesantuccia questa preparazione in quanto ci sono club che hanno iniziato già da due o tre settimane e quindi sono al massimo dell'espressione, stanno cercando di velocizzare la preparazione, stanno un po' allenandosi sulle distanze medio-corte e quindi certi giocatori che arrivano da quel lungo periodo decretato dal lockdown sicuramente non hanno ancora lo sprint, la limpidezza, la lucidità per assecondare partite ma soprattutto i doppi allenamenti che tante società hanno previsto in queste settimane. Posso garantirti, avendo due figli che giocano, che anche il giudizio è proprio quello, la difficoltà, perché magari ti sei anche allenato da solo però è cosa diversa, la difficoltà soprattutto poi dei doppi allenamenti la paghi sul fisico, insomma dolori un po' dappertutto, ma questo è assodato. Anche noi avevamo dolori un po' dappertutto quando giocavamo, Flavio, no? Una cosa, eravamo in ben altre dimensioni ma comunque ci sono state società che quest'anno rispetto agli anni passati avevano programmato il ritiro montano, alcune lo hanno fatto come la Manzanese, lo stesso Arzignano, qualche altra squadra, comunque tante società o quasi tutte lavorano in sede. Chiaro, bene, conviene tra l'altro e ci sono anche meno spese per quanto riguarda sempre questa annata particolare. E allora gli ultimi botti di calcio mercato, Flavio, Cipriani, quali sono? Ma direi di passare prima ai botti, di dare un primo segnale, una prima indicazione su quanto hanno offerto i risultati del campo. C'è il Trento che ha già giocato ben tre partite, Trento-Bosner 1-1, Trento-Arco 3-0 e sabato Trento-Roveretto 1-0. Quindi la formazione di Carmine Parlato, rinnovatissima in questa edizione 2020-2021 della Serie D, un ritorno, ha accelerato i tempi e mercoledì sarà a Kles contro la Naune di Kles, formazione della promozione per il quarto impegno del precampionato. Rimanendo in Trentino, ottima la prestazione del Sona Calcio, che è andato a vincere sul campo del Levico per 4-2. Due gol di Castellan, l'ex di turno di questa partita, e soprattutto il gol del vantaggio iniziale di Marchesini, attaccante esterno. Attaccante che nel corso della stagione ne sentiremo parlare, arrivato dal Valgatara. Quindi Sona che ha espugnato Levico Terme per 4-2, poi c'è stata la partita tra Barbisano e Feltre, la Iulia ha impattato per 1-1 contro la Liventina, il Villafranca Veronese ha anche strapazzato, anche se in termini non è giusto, vista la condizione e soprattutto il periodo, l'attritium di Trezzo d'Adda, e poi Vittorio Veneto ha perso in casa contro il Villorba, il Camisano è stato sconfitto a domicilio dall'Este, mentre sabato si è giocata Brian Lignano-Pitegina terminata sullo 0-0. Quindi risultati contrastanti, non esaltano certamente le qualità di tante squadre superiori. Tanto caldo comunque, attenzione Flavio, in questo fine settimana, un caldo terrificante perché per giocare ci voleva veramente voglia. Si, si va un po' di conserva, si cerca di respirare ma soprattutto di non farsi male in queste occasioni perché poi sono partite che contano poco, ma soprattutto contano per ravvivare la muscolatura e soprattutto per trovare un minimo di intesa tra i vari compagni. E allora i botti? Ecco i botti, andiamo subito perché il Legnago in Lega Pro ha messo gli occhi e ha puntato gli occhi su Armando Perna, esperto difensore che ha avuto un'ultima esperienza al Modena, ma era stato il punto, il punto nevralgico della difesa del Mestre. Armando Perna sembra destinato al Legnago trattativa in corso, quindi potrebbe essere anche un passaggio di maglia e Armando Perna indossare la casacca bianco celeste. Si parla molto anche di Este in quanto è possibile un ingaggio dell'attaccante esterno Mutton e soprattutto di Pennacchio, due giocatori del Legnago, Pennacchio lo scorso anno al Castelbaldo Omasi e questo giocatore potrebbe essere uno dei tanti che va a integrare la rosa di Max De Mozzi. Per quanto riguarda invece il Modena, ritornando a Modena, c'è il passaggio di Riccardo Gagno. Riccardo Gagno, ricordiamolo, cantera del Montebelluna, mestre, primavera del Brescia e soprattutto un giocatore importante perché è un portiere importante perché andrà a vestire la casacca del Modena. Per quanto riguarda invece il Delta Porto Tolle, c'è un'uscita che riguarda Vecchi Centrocampista che ha raggiunto la Virtus Vigor Carapaneto in Modena, una formazione dell'eccellenza retrocessa dal torneo di Serie D. Per quanto riguarda invece il Chions, la formazione friulana ha tesserato Gian Pietro Tuniz in arrivo dal Torbiscosa. Questo mediano, che ricordo è stato campione di taglia giovanissimi con il Donatello Udine, era compagno di squadra di Petagna quest'anno al Napoli. Quel Donatello che è allenato da Mister Giatti nella finale giocata a Sciano, finale che poi ho seguito direttamente sul campo, ha battuto in quell'occasione la Sestese di Firenze, mentre nella categoria allievi, voglio ricordare, la nuova Tortreteste Roma vinse in quella occasione contro la Liventina Gorgense, la formazione trevisiana. Ancora mercato perché a Chions se ne va a tagliavacche, è un giocatore, questo recuperato anche da un lungo infortunio, il mediano, che è un mediano lombardo, va a rinforzare il centrocampo del Brian Lignano, che ha lasciato perdere, a quanto pare, l'attaccante Petrilli della Luparense, attaccante importante, anche se negli ultimi anni ha perso un po' il feeling con il gol, ma Petrilli poteva essere una punta sicuramente di riferimento per la formazione friulana. Per quanto riguarda invece Beppe Arvia, era uno dei giocatori con Proia, che era uscito nelle scorse settimane dall'Union Feltre, Proia ha trovato casacca al Monterosi, nel Lazio, mentre Beppe Arvia, mediano incontrista, ex Triestina, Delta Portotolle, Este Clodiense, è sceso in Sardegna, è andato nell'Isola e vestirà la maglia dell'Anusei. Per quanto riguarda invece Montebelluna, dopo giornate e anche qualche mesetto d'attesa, sembra sciolto l'interrogativo sul centroavanti, uno spilungone sloveno, e Antonio Lucanovic, un passato alla primavera del Parma, sette gol, poi due presenze a Novara e a Catanzaro, non sono stati momenti floridi, in quanto l'attaccante non si è rivelato una punta da doppia cifra, un gol a Novara, un gol al Catanzaro, e soprattutto nelle ultime stagioni ha giocato nell'NK Olimpia, e poi nell'NK De Cani, dove anche qua non si è rivelato un grande puntero, 190 cm, tanta statura, tanta forza fisica, vedremo che questo attaccante non si riveli un altro passamonti per il Montebelluna, quindi che il Montebelluna debba sopprire ancora anche in questa stagione. E ci auguriamo di no. Per quanto riguarda invece alcuni portieri, abbiamo già citato Valere Gagno e poi c'è Mazzucca, Mazzucca che è andato a rinforzare invece la mediana del Delta Porto Tolle, questo ragazzo ha giocato al campo d'assego, ma è dei proprietà del Cittadella, mentre il difensore Paccagnan, un 2003 della Liventina, si aggrega al Delta Porto Tolle. Per quanto riguarda, come dicevo, i portieri, Alberto Circio vestirà la casacca del Sonacalcio di Verona in Serie D, quindi l'esordio anche per questo giocatore nel club veronese, mentre un'ultima citazione riguarda Luca Rivi, l'attaccante del mestre, papabile in più formazioni del Triveneto, ha scelto il Rimini, quindi andrà a rinforzare la formazione bianco-rossa dell'Adriatico, Rivi che quest'anno al mestre si è rivelato una punta di rilievo. Parlando di punte invece scendiamo nei dilettanti, qui andiamo ancora a numeri molto chiudi, molto ristretti, perché Dordit, un gol all'Union Pro, si è casato all'Iventina e lo stesso ha fatto Fusca, attaccante trequartista sempre dell'Union Pro, un gol anche esso, quindi sicuramente l'operazione di mercato in entrata della Limentina non sono state certamente florde, anche se questi due giocatori hanno una valida esperienza in categoria, ma non sono risoluti quanto avrebbe voluto sicuramente il mister della Limentina, Beppe Tonna. Però è un bel giocatore Fusca, che può anche giostrare in mezzo al campo. Sì, sicuramente sì, ma ce ne sono altri anche nell'Iventina che hanno queste attitudini, quindi ci sono anche dei ragazzi giovani che hanno mentalità, carisma e soprattutto gamba per anche dare un input e soprattutto velocità al gioco offensivo della formazione bianco-verde. A Scardovari invece arriva il centrale difensivo, che è Boss Cornonata, classe 96 della Clodiense e in settimana si andrà a chiudere l'operazione con Di Maio, è un'operazione che ormai va avanti da tre settimane. Di Maio in settimana dovrebbe dare l'ok allo Scardovari, che è stato inserito nel girone B dell'eccellenza. Ricordiamo Di Maio ha avuto un'esperienza lo scorso anno in Montelli e divisa nel corso della stagione con il Careni. Per quanto riguarda il Vigasio c'è l'annuncio del tecnico, è Venturi secondo Di Marcolini al Chievo Verona, quindi il tecnico del Vigasio arriva dal calcio professionistico e a Vigasio dovrebbe anche arrivare in settimana, forse oggi è la firma, di Fatimir Saccaieva. Questo tormentone del Sevo che voleva Saccaieva in più direzioni potrebbe avere conclusione proprio a Vigasio, quindi una soluzione che anche l'attaccante attende da tempo, visto che il procuratore Campi lo sta un po' prendendo in riferimento e dando l'impasto a più società. Saccaieva dovrebbe essere vicino quindi al Vigasio. Il Sandonà ha coperto i pali con Fabian, ragazzo del 2002 del Venezia, mentre Cima, 38enne attaccante Mancino, ha lasciato il caorle lo scorso anno rivelatosi al 90 di Piave e è andato a rimpinguare, a dare manforte all'attacco del Chions. Un'ultima nota riguarda Gentina, che da voci sembra abbia lasciato il Mogliana alla Union Pro per accasarsi al Favaro Mestre. Va bene, con questo ultimo botto, con questo ultimo nome, termina qui il nostro appuntamento che quest'anno abbiamo portato avanti per alcune settimane, parecchie settimane, con il collega Flavio Cipriani, che ringrazio, ma con Flavio ci sentiamo anche in Restart, quindi stiamo scoprendo un po' le società dal campionato di Serie D ai campionati di prima e seconda categoria. Grazie Flavio, buona giornata a te. Un appuntamento che potrà rivelarsi utile anche per sentire le ultime giocate del campo, ma soprattutto gli ultimi riferimenti del mercato che sono ancora in stand-by. Grazie anche in regia, in cabina di regia Luigi o Luigino o Gigi, Selvestrelli, buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.